Bene, 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 bene per modo di dire, insomma, però si tratta di un lavoro chiaramente che usura il fisico perché bisogna stare alla guida, poi non più di 9 ore, ma 9 ore sono poche, io vi devo dire la verità, quando magari a Roma ci arrivo con la macchina, magari sono 10-11 ore, diciamo tu guidi una macchina, magari mi fermo un po', allora forse 9 ore per uno che fa questo lavoro sono poche, e comunque non dobbiamo togliergli la patente, dicono gli autotrasportatori, anche perché, attenzione, è un problema di costi e riguarda proprio gli autotrasportatori. Cambiamo argomento, parliamo di soldi e parliamo della Banca Agricola Popolare di Ragusa. La Banca Agricola Popolare di Ragusa diventerà fra breve la Banca Agricola Popolare siciliana, non più BPR ma BPS, da non confondere con BPSA, che era la Banca Popolare Sant'Angelo. Voi sapete che la Banca Agricola Popolare ha iniziato questa fusione, che non è come la SAC con l'aeroporto di Comiso, che la SAC se l'è fagocitato l'aeroporto di Comiso e lo ha distrutto. Qua invece si tratta di mettere insieme due banche che hanno un buon numero di sportelli, soprattutto la Banca Sant'Angelo opera nella parte occidentale, nella parte di Palermo, Agrigento, ci sono molti sportelli in quella zona. Mentre la Banca Agricola di Ragusa opera molto più nella Sicilia orientale. Allora, mettendosi insieme, diventano una delle più grandi banche popolari d'Italia e soprattutto coprono tutta la Sicilia con una copertura capillare. Purtroppo gli sportelli servono poco, in certi momenti uno va lì ed è un caos, speriamo che si possa migliorare. La cosa simpatica è che questa Unione ha fatto sì che il capitale in qualche modo aumenta. Allora, per i soci che hanno le azioni della Banca Agricola Popolare c'è un omaggio. Regaleranno un'azione di questa nuova società ogni 25 azioni della Banca Agricola. Quindi daranno un'azione in più. Se ce ne hai 250, te ne daranno altre 10, quindi ne avrai 260. E poi c'è anche questa notizia che si completa l'operazione Linfa. Vi ricordate qual era? C'era stata quella polemica dei proprietari delle azioni che non se le potevano vendere, non potevano monetizzare perché c'era questo blocco. Si completa e quindi dice che nell'ambito dell'operazione Linfa comunica il pagamento del dividendo straordinario del 24 come fase conclusiva del percorso triennale. Quelli che hanno mantenuto le aziende e non le hanno cedute avranno un dividendo in più. Però la Banca Agricola è la banca dei ragusani. Ora diventerà la banca dei siciliani e noi possiamo essere contenti. L'importante è che non dimentichino di essere la banca dei ragusani perché la linfa, il cuore, la vita di questa banca sono stati i ragusani. Quindi nel tempo, in più di cento anni, hanno fatto davvero una delle migliori banche d'Italia. Detto questo andiamo a parlare di quello che sta succedendo per i Black Baskers. Allora il sindaco per ora non ne inserta una. Scusate se ve lo dico. A parte la questione del castello, di cui ora parleremo certamente, ma questa storia di Black Baskers è davvero paradossale. Devo ammettere che a me i Black Baskers non mi piace. Non mi piace per come è stata sempre strumentalizzata. L'hanno usata piuttosto che come divertimento, come fonte di reddito. E ora l'ultima cosa è che per un certo motivo la cooperativa Edrisi, l'associazione Edrisi, che è quella che gestisce i Black Baskers, ha avuto un contributo regionale. Questo contributo di 50 mila euro. Ma qual è il dramma? Il dramma è che già da mesi il sindaco, ecco dove è scorretta un'azione, il sindaco sapeva perfettamente che loro volevano spostare la manifestazione di Ibla Baskers a Ragusa Superiore. Dicendo, perché lì è anche subito la motivazione, loro dicono che siccome i commercianti non vogliono partecipare perché Ibla Baskers chiederebbe un contributo ai commercianti. Dicendo noi vi portiamo la gente e dovete darci una mano. Ma i commercianti di Ibla dicono ne abbiamo tanta racina appesa, dovessimo dare pure i soldi. Allora, da un po' di tempo c'è questo scontro e la Edrisi addirittura ha deciso di andarsene a Ragusa Superiore. Ora, che si chiami Ibla Baskers e si fa a San Giovanni, mi pare davvero una cosa brutta. E anche il sindaco avrebbe dovuto dire che non se ne parla neanche. E siccome può anche essere che quelli dell'Edrisi hanno detto che non ce ne frega niente perché ci hanno dato i soldi, allora alcuni consiglieri comunali sono intervenuti e hanno detto no, a questo punto considerando scorretta tutta l'operazione, dobbiamo togliere il contributo del comune a Ibla Baskers e se la vuole fare a Ragusa Superiore se la faccia con i suoi soldi senza che gli diamo contributi noi. In questa cosa è centrata anche un po' la provincia, per ora l'amico Nitto Rosso sta facendo stragi perché si anfila da qualunque parte, nel parcheggio, nel castello, nella Pineta, nella Virtus, ovunque perché ha un tesoretto e se lo deve sparare, per motivi obbligatori, perché se lo deve sparare per forza, perché se no va in perenzione e si perdono i soldi. Adesso è invidato e ha detto che Ibla Baskers addirittura, pensate, si andrà a fare davanti al castello di Acate. Auguri per gli amici di Acate, ma se si chiama Ibla Baskers allora cambiamoci nome, chiamiamolo Festival della provincia di Ragusa per Ibla Baskers, Bask Festival, in tutta la provincia e la potete fare dove volete, ma se si chiama Ibla Baskers a me non me ne frega niente perché non mi è mai piaciuto, quindi a me non me ne frega niente, anzi sarei contento se se ne vanno per dire. Però siccome a Ibla serve per la motivazione della gente che ci va, a questo punto non è neanche bello che vadano a finire ad Acate col nome Ibla Baskers. Cambiateci nome, prendetevi i soldi della regione e finite il luogo, dicono i consiglieri comunali. Un altro consigliere comunale è il consigliere Ferringeli, Sergio Ferringeli, che dice abbiamo capito che il sindaco disconosce l'intervento del prefetto, infatti anche nella mia intervista ha detto vabbè il prefetto, voglio l'ho detto, anche se arriva il prefetto non si può interrompere questo iter, cioè il sindaco è così testardo dal punto di vista del suo iter che non accetterà nessuna motivazione. Allora io chiedo ai consiglieri, quelli che sono in gamba, agli avvocati, ai consiglieri avvocati di studiare su questa cosa e cercare di bloccare questa operazione che non è un'operazione a perdere, perché non c'è dubbio che mettere il castello in mano ad una reale organizzazione che funziona sarebbe anche una bella cosa, ma la mia paura è che venga in questo modo tolto. Il sindaco dice ci sarà una commissione, ma la voglio vedere la commissione, come si fa? Poi con l'assessore al turismo che abbiamo noi, il sindaco, ti immagini quello che esce fuori. Quindi io sono convinto che gli avvocati, se si ci mettono, possono andare a trovare qualcosa, perché il punto principale è quello che dicevo ieri, questa circolare che parte nel 2019 dice, attenzione, la gestione di mobili e di siti museali che a oggi non sono aperti. Poi è probabile che ci siano stati dei cambiamenti, però si parte da lì, questo partenariato speciale è fatto per quelli che non sono agusi. Però, siccome io non sono avvocato, lascio la parola al mio amico Peppe Lizio, che affronta questo argomento, ma non tanto da legale, ne fa pure riferimento, ma proprio da politico. Dice, come ho detto io, bisogna capire se c'è un'opportunità politica o meno. Sentiamo Peppe Lizio.